Anche il gruppo della Lega chiaramente si unisce ai ringraziamenti nei confronti di tutte quelle persone che hanno reso possibile questa liberazione. In primis chiaramente l'intelligence, i ragazzi, le donne e gli uomini dell'intelligence che hanno individuato immediatamente la strada giusta evidentemente per poter arrivare a questo risultato. E devo dire, non l'ho sentito dagli altri miei colleghi, lo faccio io, spero che sia una cosa condivisa, ringraziamo anche le famiglie per aver tenuto un silenzio che probabilmente ha aiutato questo tipo di risultato. Finiti i ringraziamenti però, vede Ministro, noi ci aspettavamo cinque paroline che lei non ha detto, cioè non abbiamo pagato alcun riscatto. Lei questo non lo ha detto. Ed è drammatica questa questione, cioè è dirimente, ma non è dirimente solo per questo caso che fortunatamente si è risolto, poi qualcuno ci dovrà dire come effettivamente. Ma è dirimente per il futuro, perché al netto del fatto che se qualcuno ha pagato questo riscatto, che siano 12 mila euro o 12 milioni di euro, ha compiuto un reato, lei lo sa benissimo, perché il nostro ordinamento lo vieta. Lei ha parlato in maniera molto fumosa del fatto che comunque è andato nel solco di quello che erano i comportamenti sempre tenuti dal nostro Paese e in linea con quelli degli altri Paesi. Mi scusi, questa è una balla. È una balla e anche per come è venuta fuori la notizia, che non è stata data, come qualcuno dice, da un nostro esponente, assolutamente. Assolutamente. Anzi, il Presidente del COPASI e Stucchi ha detto una cosa molto equilibrata, molto saggia. Io ho il Comitato martedì. Ritengo che questa cifra sia spropositata, ma lui non ha gli elementi, come invece lei ha, come invece lei ha, di poter dire se sono stati pagati o non sono stati pagati questi soldi. E questa è la cosa drammatica. Vede, noi le diamo senza polemica, però in punto proprio di diritto e in punto di rapporti istituzionali. Un'ultima possibilità, visto che è qui, di dirci se sono stati pagati o meno, perché se non ci chiarisce la questione è chiaro che noi andremo in procura a depositare un esposto e chiedere se quelle voci che sono uscite sono fondate o meno e chiedere a quel punto se questi soldi, chi li ha pagati e chi ha dato l'autorizzazione. Ma, ripeto, non è solo il problema specifico di questo caso e dell'utilizzo eventualmente di fondi pubblici per pagare un riscatto, che è un po' come se lo Stato, per difendere i commercianti, pagasse il pizzo alla mafia o alla camorra. Siamo a questo livello qui. Siamo allo stesso identico livello. Soldi che vengono utilizzati, se confermato, per liberare persone sequestrate. Certamente lo scopo è assolutamente nobile per salvare delle vite umane, però ci si dimentica di tutti quelli che per questioni economiche rischiano il suicidio. Quelli che non vanno tutelati. Allora, ci deve essere, ripeto, un punto di principio. Ma spostandosi sul piano internazionale, se è vero che voi avete pagato il riscatto, siete folli. Perché se è vero, se è vera questa notizia, voi avete messo con questo pagamento in difficoltà e in serio rischio tutti gli italiani che sono in giro per il mondo. Non solo in zone potenzialmente a rischio, ma anche in giro per il mondo, anche per motivi di lavoro. Perché se passa il concetto che l'Italia, qualsiasi suo cittadino che viene rapito, è disposto a pagare un riscatto, beh, è chiaro che il livello di attenzione nei confronti dei cittadini italiani si innalza, perché sanno benissimo, soprattutto non tanto i terroristi, ma i criminali, le organizzazioni criminali, che rapire un italiano rende. Le sottolineo anche un'altra cosa, Ministro. Forse non l'è sfuggita che la fonte che per prima ha dato la notizia, ripeto, che mi auguro che venga smentita, ma che qualcuno però ci deve dire, smentire in maniera categorica, oppure confermare, del riscatto di 12 milioni, è una fonte inglese. Gli inglesi, quelli che hanno lasciato, per loro scelta, non trattando quei terroristi, che i loro cittadini venissero sgozzati in televisione, che rapporti pensate di avere adesso nei confronti dei nostri Paesi alleati, quando voi pagate i riscatti per liberare i cittadini italiani, e loro invece per non piegare la testa nei confronti di questa gente qui, di questi terroristi, di questi criminali, pagati il riscatto. Questo qui è un tema di rimente, ripeto, non solo per queste due persone, che se fosse vero poi le loro famiglie dovrebbero rifondere questi soldi, perché comunque, almeno, evitiamo che in futuro possano accadere queste cose qui, danno un segnale chiaro. Prima il collega Alli diceva che le famiglie come hanno fatto a non spiegare queste persone. Io non penso che le persone diventino intelligenti con una legge, però può essere un deterrente applicare quello che è il cosiddetto modello giapponese, cioè le persone, finisco, concludo, le persone che si recono in zone a rischio, senza un'autorizzazione, lo fanno loro rischio e pericolo e qualsiasi costo per la loro liberazione deve essere posto a loro carico. Così come è assolutamente importante, visto che ci sono delle ONG che operano seriamente e non in maniera improvvisata, come hanno fatto queste due ragazze, improvvisata e incosciente, come hanno fatto queste due ragazze, quelle che operano devono essere autorizzate con una sorta di nulla osta. Tutte le altre ne devono rispondere personalmente o le loro famiglie.